Benvenuti ai nostri cari follower. Un forte terremoto colpisce oggi, martedì 22 agosto l'Italia, 2023. Causa paura nella popolazione. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci prima con ammirazione per questo video e di iscrivervi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le novità ed esclusive relative alle notizie dei terremoti in Italia nel momento in cui si verificano. Grazie voi. Se martedì mattina un forte terremoto ha colpito il sud Italia. Secondo il Centro Europeo di Sismologia, l'ora del terremoto si è verificata nell'isola di Sicilia, nello specifico a 42 km da Catania e una profondità di 16 km dalla superficie della Terra. Secondo la stessa fonte, l'intensità della scossa avrebbe raggiunto i 3 gradi della scala Richter. Fortunatamente questo terremoto non ha causato alcun danno, solo forti scosse durate pochi secondi. E c'è chi non l'ha sentito perché dormiva. Ma il terremoto è stato piuttosto forte. Martedì mattina la Terra ha tremato due volte nello stesso punto. E ogni altra novità importante cercheremo di aggiornarvi più tardi. Finalmente sei in buona salute.